110 immigrati in arriva a Somma Vesuviana, ad annunciarlo il sindaco Salvatore Di Sarno dopo l'incontro dell'altro giorno a Napoli in prefettura. Un tavolo istituzionale convocato per discutere del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. L'intenzione della nuova amministrazione sommese è di adierire allo Sprar, limitando così il numero degli immigrati alla percentuale dei tre stranieri per ogni mili abitanti, come previsto dall'accordo Anci-Ministero. A Somma però i cittadini non sembrano mostrare la stessa accoglienza ed ospitalità paventate dal sindaco, anzi in tanti si dicono addirittura pronti a fare le barricate. Non siamo razzisti, però noi già siamo inquaiati a Somma, diciamo che c'è lo sinico. Noi non siamo bene noi, come facciamo con quest'altra gente? Da Somma ci sono già 40 di lì, sempre dalle sole trinitarie. Adesso ne arriveranno 110, più 40 staremo a 150. Ma dico io, ma ci vogliamo ci vogliare dal sonno? Qua dietro la sacristia si sono viste delle cose diciamo un po' sconce. Due ragazzi di colore che facevano l'amore dietro la sacristia. Parliamoci chiaro, ci sono bambini, donne. Eh, a me metto, sono così. Non danno i soldi a questi migranti, no? Quando poi noi con 300 euro al mese, come facciamo a campano, cioè ammobiliamo ragazzi questi migranti, ma perché non sono in un paese là? Parcatura, Lago Patria, Mondracone, che loro hanno preso possesso di tutta la zona, che fanno prostituzione. Droga, questi migranti, vengono anche a Somma Vesuviano, così facciamo la stessa fine della zona dell'Ago Patria. Gli immigrati, no, non esiste proprio, gli immigrati a Somma non devono proprio venire.